Arap nasce dagli ex consorsi industriali e sicuramente risente delle diverse, numerose, numerosissime crisi aziendali che questa regione ha incontrato in un periodo di difficoltà più generale. Ovviamente va riorganizzato velocemente un piano industriale che salvaguardi l'occupazione all'interno di una struttura estremamente importante soprattutto per rilanciare le attività economiche e produttive all'interno della nostra regione. Ma per questo serve un piano di rilancio che permetta alle imprese di investire nei nostri territori e di essere presenti. Quindi diventa la struttura fondamentale per il rilancio economico della regione. Voi chiedete anche alla regione che siano impiegati nuovi fondi per l'Arap? Naturalmente sì, c'era un impegno di utilizzare alcune delle attività previste nel masterplan perché fossero gestite, faccio un esempio, direttamente da Arap, per tutta la questione della depurazione delle acque che è un nodo importante da tanti punti di vista, però a oggi le risorse non arrivano. Quindi c'è un rallentamento anche rispetto a quelle attività che possono essere immediatamente fatte con le risorse ovviamente a disposizione. Ha bisogno di essere rilanciata e seguita, di stringere su alcune scelte perché va davanti. Noi siamo convinti che serve, che è utile avere una struttura che supporta gli insediamenti produttivi.